Tragedia all'alba a Roma. Un uomo è morto nell'incendio, divampato nella sua abitazione, a trasvedere. Le fiamme hanno divorato l'appartamento dove l'uomo è rimasto intrappolato. Con lui c'era anche un cane, rimasto illeso. Secondo quando riportato la Repubblica, l'incendio si è sviluppato nella notte verso le 4.30 di sabato 28 ottobre, in un'abitazione in via Aurelio Salvi, a Roma, tra i quartieri di Monteverde e Trasvevere, Per causa ancora da chiarire, un rogo è divampato in un appartamento al pieno terra, di una palazzina. Le fiamme hanno in poco tempo divorato l'immobile. L'incendio è morto un uomo di 50 anni, italo che abitava nell'appartamento avvolta dalle fiamme. Il cinquantenne è rimasto intrappolato a causa dell'incendio ed è deceduto. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, sono entrati nell'appartamento nel tentativo di mettere in salvo la persona che si trovava all'interno. Una volta tirato fuori, però, il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, campanella, notifica e un commento. Ciao!